Domande. Un tale mi venne a domandare quante fragole crescono in mare. Io gli ho risposto di mia testa quante sardine nella foresta. Quando è che hai iniziato ad appassionarti a Gianni Rodario? Negli anni 90, ok boomer me lo dico da sola, negli anni della nascita di tutte le prime ossessioni, stavo imparando a leggere e scrivere e ho ricevuto in dono un preziosissimo cofanetto strena, li chiamavano all'epoca, inteso quindi come ideale dono nonché operazione commerciale, l'aveva realizzato editori riuniti. Me lo sono andato a cercare ovviamente perché non lo ricordavo assolutamente e comprendeva una videocassetta preistoria pura e sette volumetti molto molto sottili, quadrati, sempre di un azzurro molto vivido che avevano tre filastrocche, un altro paio, la risposta ai perché dei bambini, quelle risposte pazze pazze che il buon Gianni sapeva dare e poi invece un altro paio erano storie fantastiche. nella videocassetta c'era l'adattamento un po' goffo, un po' curioso, un po' surreale di un racconto di Rodari che aveva a che fare con il bastone magico, con questo oggetto che si trasformava in raggio, in cavallo, cowboy e così via. Un incontro davvero surreale che per me è stato fulgurante perché è nata lì una forma di ossessione per le parole, per il segno, per il senso e per la magia che generavano queste benedette rime. Poi trovavo anche particolarmente inquietanti e quindi affascinantissime le illustrazioni all'interno di questa serie di volumetti. Ma ci torniamo perché secondo me poi vale la pena approfondire. La cosa curiosa, la cosa colpevole direi, è che nonostante per me lì sia nata una forma di ossessione, in realtà è un'ossessione che si basa sull'ignoranza. Cioè io riesco a citarti a memoria il refuso e un po' di altre filastrocche, però non mi sono mai davvero documentata sulla vita di Rodari. Ok. E erudiscimi, erudiscici, perché non possiamo fingere che questa conversazione, io e il buon gallo, la stiamo svolgendo come abitualmente facciamo nella nostra dimora. Beh, diciamo che per quanto riguarda la vita, l'esistenza di Gianni Rodari, noi abbiamo cercato di un po' studiarla, capirla, approfondirla anche perché quest'anno ricorrono i cento anni della sua nascita. Gianni Rodari nasce, abbiamo segnato qui, il 23 ottobre del 1920 e allo stesso tempo ricorrono anche i 40 anni della sua scomparsa che è avvenuta il 14 aprile del 1980. E che cosa viene fuori dal racconto della sua vita e della sua esistenza? Beh, diverse cose interessanti, cose anche molto, diciamo così, ovvie e scontate che uno può andare a cercare anche da qualche altra parte. Però sicuramente quello che è interessante ripetere è che nel 1937 lui si diploma maestro e comincia a lavorare come precettore. Si iscrive poi anche alla facoltà di lingua e all'università, però senza portarla a termine, quindi lui non completa, non porta a compimento questo percorso di studio. Tra il 40 e il 45 e quindi durante gli anni della seconda guerra mondiale eventi molto molto tristi lo segnano perché lui durante la guerra perde i suoi due dei suoi più fidati amici e tra l'altro il fratello viene internato all'interno di un campo di concentramento in Germania. Questo ovviamente lo porta a, diciamo così, entrare a far parte della resistenza lombarda e quindi a combattere e si iscrive poi al partito comunista italiano. Questa vicinanza poi all'ideologia comunista e marxista lo accompagnerà per tutto il resto della sua vita e farà sì anche che nei primi anni 50, se non sbaglio, nel 51 quando venne la luce il suo primo libro delle filastrocche, questo suo libro assieme poi alla raccolta di una serie di suoi articoli venissero bruciati nei cortili di molte chiese a seguito della scomunica della città del Vaticano, quindi dello stato pontificio. Quindi una cosa abbastanza orribile, se così possiamo dire, che ha sicuramente segnato terribilmente l'esistenza e la creatività e i temi trattati dalla sua creatività di quello che è stato sicuramente per noi italiani, per la lingua nostra italiana, il più grande scrittore di libri per l'infanzia. Ma su altre cose della vita poi magari ci torniamo in un secondo momento quando andiamo a toccare un altro po' di sue, diciamo così, opere, ok, delle varie sue pubblicazioni, eccetera. Mi colpiscono tantissimo due cose in particolare, ma l'amo le schiene da serial killer che state notando, che è piena di riferimenti molto precisi e puntuali e date, mi ha ricordato tantissimo l'antefatto che c'è all'interno della grammatica della fantasia di Rodari, della quale magari poi dopo ci parli un po' meglio, perché è l'unica opera di saggistica. Ma nell'antefatto, nella premessa che lui scrive, chiamandola proprio antefatto, riporta snocciolando tutta una serie di sue conquiste che vogliono in qualche maniera giustificare, come se lui sentisse di doversi umilmente giustificare, della necessità di un suo testo non narrativo, ok? E scrive, pare brutto allineare tante date, a chi mai possono interessare, eppure mi piace poterle disporre una dopo l'altra come se fossero importanti, il lettore faccia conto che io stia giocando a quel gioco che la psicologia transazionale chiama, guarda mamma come vado bene senza mani, è sempre così bello vantarsi di qualcosa. Mi ha fatto una gran tenerezza perché l'ossessione per la data e il doverla poi giustificare è qualcosa che ha messo in conto pignanta mila anni fa, nello stendere l'antefatto in questione ed è come se ci fosse una compresenza, perché ora che ripercorriamo un po' con te la sua vita, appare evidente questo dualismo, diciamo così, questa vocazione creativa sfrenata alla fantastica, e poi invece delle esperienze di vita assolutamente tragiche, come per tutti. È incredibile come doppio binario. È verissimo, ma forse tutta la sua esistenza si muoveva su questo doppio binario, perché se vogliamo la sua stessa prima pubblicazione, cioè il libro delle filastrocche del 51, ecco proprio quello di provare a raccontare, usando e scatenando la fantasia, quindi qualcosa che va a rompere, a spezzare l'ordine costituito dalle cose, inserendolo però all'interno di una struttura metrica, se vogliamo, estremamente rigida, come quella di una filastrocca, che a volte è anche una struttura circolare, con la presenza delle rime, ecco questo è un po' qualcosa che crea un effetto duplice, perché da un lato appunto abbiamo qualcosa di completamente bizzarro, strano, l'ordine costituito che viene capovolto, e dall'altro lato qualcosa di assolutamente rassicurante, e diciamo così, se vogliamo, anche... Fin troppo coccolante, fin troppo accomodante, fin troppo rassicurante. È giustissimo, è giustissimo, sì. Sai, il cofanetto che ti citavo prima, quello dove nasce tutta la mia ossessione, è stato recensito sull'Indice dei Libri del Mese dell'epoca, negli anni 90, e ho ritrovato le scansioni. Vale la pena citarlo, perché? Perché intanto Fernando Rotondo, il studioso, docente universitario di letteratura per l'infanzia, quindi preparatissima in merito, mette proprio in luce questo dualismo, e poi perché si concentra su un'operazione che negli anni è stata fatta rispetto all'opera di Rodari, proprio riguardo a quello che stai dicendo tu, e cioè, cito proprio letteralmente il pezzettino di Rotondo, che magari poi possiamo fornire come materiale scaricabile, perché può essere interessante. Apre dicendo ovviamente che dopo la morte di Rodari, dai suoi cassetti è uscito un po' di tutto, poi cita Rodari, quindi il buono, il cattivo, il bello e il brutto, tanto per usare un suo verso, financo operazioni commerciali spericolate, quindi d'accordo, si è sempre fatto, insomma, e questo va bene. Dopodiché però tiene conto di un concetto abbastanza particolare, e secondo me sempre attuale. Dice, non a caso, La scuola italiana ha aperto storicamente le porte dei suoi libri di testo alle poesiole e favolette di Rodari, ma per rinchiuderle come canarini in gabbia, per usare le parole scrive a lui di Mario Lodi, zuccherandole e appiattendole in un mondo senza inquietudini e contraddizioni, dove ci si vuole tutti bene, si ama la pace, e per fare un tavolo ci vuole un fiore. Lo trovo una critica ancora attuale, nel senso che poi è ovvio che con operazioni invece molto più complesse di ripubblicazione dell'opera omnia non si vada a fare una forma di censura, insomma, più assolutamente non è qualcosa, non è un rischio che ancora si corre. Però è interessante, è come se stesse suggerendo di fatto che quindi per gran parte del tempo si è rischiato di tenere fuori dalla scuola, o fuori da un certo tipo di scuola, il brutto, o lo spaventoso. Il brutto e lo spaventoso che poi sono quelle cose che, diciamo così, vanno a divergere da quella che è una linea, diciamo, stabilita, e sarà probabilmente l'ultimo tema o aspetto dell'opera di Rodari che vorremmo trattare insieme a voi, cioè quello del cosiddetto concetto dell'errore, di che cosa se ne faceva Rodari dell'errore e perché lo considerava così importante. Però, diciamo così, nel percorso che andiamo ad affrontare, siccome abbiamo già parlato del suo libro delle filastrocchiano, quello del 51, mi sposterei invece al suo primo romanzo, quindi l'opera uscita nello stesso anno che è il romanzo di Cipollino. Qui invece pubblicato come Le avventure di Cipollino perché molte di questi suoi racconti vedevano poi la luce, se vogliamo, appuntate di volta in volta su una rivista che si intitolava Il Pioniere, che era l'Associazione dell'API, l'Associazione dei Pionieri Italiani, che si ispirava a quelle che erano le dinamiche dello scautismo cattolico, però declinate in una matrice molto più marxista, e questo poi diede anche quei problemi con la Chiesa Cattolica di cui abbiamo fatto riferimento prima. E poi invece questo romanzo di Cipollino cos'è? Come parte? Gianni Rivoluzionario qui sposa Gianni Lisergico, nel senso che ragazzi, non so quanto siate a conoscenza, frequentiate abitualmente i mattacchioni di Adventure Time, ma siamo da quelle parti lì, insomma ecco, mancano il Re Ghiaccio e la Principessa Gommarosa e, come si chiama la Vampirella meravigliosa, Marceline. Marceline. Mamma, quanto amore, perché qui Fini e Jake sono presentissimi. Viene presentato in maniera assolutamente ligia e professionale in questo modo, ecco in veste rinnevata il primo autentico capolavoro di Gianni Rodari. Cipollino torna a giovani e meno giovani lettori con tutta la sua esuberanza, la sua voglia di giustizia, il suo gusto dell'ironia e del sorriso. Quello invitato a Rodari è un mondo di frutta e verdura, con buffi personaggi che in realtà, diciamo così, pescolano da... pescolano? pescano! Pescolano, sarebbe molto piaciuta a Gianni, mi piace pensare. Esatto, esatto. pescolano dalla realtà sociale, dalla fantasia, toccando temi come l'inclusione, l'amicizia, eccetera, eccetera. Tutto molto bello, ma tuffiamoci. Eh sì. La vera challenge di questa quarantena, anzi non usiamo impropriamente il termine quarantena e chiamiamolo isolamento volontario, perché è quello che è per gran parte di noi privilegiati, la vera challenge è leggere l'incipit di Le avventure di Cipollino senza ridere. Capitolo 1 Schiaccia un piede cipollone al gran principe limone. Cipollino era figlio di Cipollone e aveva sette fratelli, Cipolletto, Cipollotto, Cipolluccio e così di seguito tutti i nomi adatti a una famiglia di cipolle. Gente per bene, bisogna dirlo subito, però piuttosto sfortunata. Cosa volete quando si nasce Cipolle? Le lacrime sono di casa. Cipollone e i suoi figli abitavano in una baracca di legno poco più grande di una cassetta di quelle che si vedono dall'ortolano. I ricchi che capitavano da quelle parti torcevano il naso disgustati. Mamma mia, che puzzo di cipolla! Dicevano e ordinavano al cocchiere di frustare i cavalli. Una volta doveva passare di là anche il governatore, il principe limone. I dignitari di corte erano molto preoccupati. Cosa dirà a sua altezza quando sentirà questo odor di poveri? Si potrebbe profumarli, suggerì il gran ciambellano. La appoggia pienissimo, l'ottimo Gianni entra a gamba tesa, ma soprattutto snocciola una serie di nomi, di personaggi, che hanno, come ripeto, tanto di lisergico, sbrigliando quella fantastica, oltre che fantasia, sulla quale ha tanto ragionato. È verissimo. Ovviamente, dopo aver ascoltato questo breve inizio, è molto semplice e facile capire come possa aver avuto così tanto successo questo romanzo poi nell'Unione Sovietica dell'epoca, tanto che dieci anni dopo la pubblicazione del romanzo, nel 1961, venne addirittura tratto un film di animazione. Quindi il collegamento che Domitilli ha creato prima con Adventure Time è più che calzante, perché davvero c'è la possibilità di immaginare questi personaggi animati nel momento in cui assumono i vari aspetti delle verdure, della frutta e quant'altro. Però è chiaro l'intento, diciamo così, rivoluzionario di questo cipollino, che nel giro poi di poche pagine si troverà a capitanare una rivolta contro questo temibile, mostruoso, malvagio Principe di Mon. È un evidente impiego di quelle che erano tematiche a lui molto, molto, molto care, ma non si tratta di uno scambio che è in nessun modo forzato sulla pagina, è sempre molto organico e presenta una serie di accostamenti e di invenzioni continue, linguistiche e lessicali che mi fanno capire ancora meglio e ancora più come mai era nata la fascinazione durante l'infanzia, insomma, per questo genere di mondi narrativi. L'impressione è che sulla pagina di Rodari sia concessa qualsiasi cosa, ci sia uno sbrigliare a perdifiato, diciamo così, la fantasia, senza alcun paletto. È verissimo, è verissimo, anche perché poi nel momento in cui, questo ecco è un tipo di consiglio che solitamente diamo quando teniamo i nostri corsi di narrazione, e cioè che se io voglio infrangere le regole, io queste regole le devo conoscere molto bene, devo avere molto ben presenti quelli che sono tutti i paletti di una narrazione, e nel momento in cui io li conosco, so dove stanno, posso, diciamo così, infrangerli, posso romperli, e così via. Per Gianni Rodari questi paletti si trovavano pressoché ovunque, erano dappertutto, non erano soltanto le parole, perché attraverso una serie di suoi titoli sembra quasi che il divertimento consista nell'accostare parole che apparentemente sembrano non avere nulla in comune, ma ha proprio il concetto, se vogliamo, ancora prima di punteggiatura. Che cosa accade? Che nel, vediamo un attimo qui, nel 1960, questa è Filastrocche in cielo e in terra, è la prima pubblicazione di Gianni Rodari per la casa editrice Enaudi di Torino. Questa edizione aveva poi i disegni di Bruno Munari, sicuramente, come quello che tu hai citato all'inizio, responsabile non soltanto di, come dire, accompagnare il testo con le sue illustrazioni, ma di arricchirlo e quasi in un certo senso ad andare ad indagarne dei sensi più nascosti che lui riesce a portare alla luce, perché determinate sue illustrazioni, con questi bei colori netti, privi di sfumature, se visti in realtà con un occhio magari anche un po' più adulto, come siamo noi, che poi Gianni Rodari lo... moderno, sì. o più moderno, certo, che lo rileggiamo a distanza di un po' di tempo, riusciamo a trovarne quasi una sorta di inquietudine. Per esempio, questa filastrocca in cela intera si apre con questa filastrocca intitolata Il Dittatore e fa così Un punto piccoletto, superbioso e iracondo, dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono. Ma che grilli ha per il capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto è a capo. Tutto solo, a mezza pagina, lo piantarono in asso e il mondo continuò, una riga più in basso. E l'illustrazione, qui, che si trova a questo punto, quasi fa pensare, sì, d'accordo che c'è un punto, il mondo, ma ci fa quasi pensare, no, che ci sia un pianeta all'interno di una galassia. Un borgo. O anche... Un buco nero. Un buco nero, esatto, esatto, esatto. Ora, questo è quello che uno potrebbe immaginare, un semplice scarabocchio fatto da bambine. E invece no, perché si è accostato a queste parole, a questa ritme, a questa sonorità, e a questo intento, e completamente, lo capite anche voi, ribaltato, trasformato, ma potenziato ancora di più. Da questo punto di vista, l'impressione è sempre quella che se ne conosca soltanto un frammento. Per tanto tempo è stato associato, ed è associato tuttora, insomma, a questa benedettissima letteratura per l'infanzia, quando è la sua pagina, secondo me sempre, maestra di stile. Quanti aspiranti pennivendoli conosciamo? Quanto lo siamo noi stessi, e quanto dobbiamo, alle sue rime e non solo, un certo modo di intendere il fraseggio, un certo modo di intendere la narrazione, che in qualche modo sia tributo alla parola stessa. Io penso anche soltanto al... ce l'abbiamo da qualche parte, il palazzo di gelato. Oh, certo, certo che ce l'abbiamo, certo che ce l'abbiamo. È una favoletta, è un raccontino che all'interno di una raccolta che di suo già è particolare, no? Perché favole al telefono... Sì, favole al telefono probabilmente è proprio per quella cosa che abbiamo detto all'inizio, no? Di questo accostamento di termini apparentemente appartenenti a mondi completamente diversi, anche da un punto di vista storico, cioè le favole, le fiabe, che sembrano una cosa così antica, e invece uno strumento che per l'epoca, visto che le favole al telefono sono state pubblicate nel 62, era tutto sommato ancora recente come invenzione, o quantomeno non tutti ce l'avevano già in casa, non era diventato già quello... sì, forse in quegli anni, d'accordo, uno strumento così quotidiano, tanto da poterlo metterlo insieme, da poterlo, diciamo così, far scontrare, proprio per generare un senso diverso. Lui lo sdogana facendone cornice narrativa, no? Giusto? Il romanzo diventa poi una sorta di vero e proprio decamerone per bambini, perché il protagonista di questo libro, bellissimo, è questo ragionier bianchi di Varese, che lavora come rappresentante di commercio, viaggia moltissimo, nord, sud, est, ovest, per tutta la penisola, però ha un compito soltanto, nel senso che lui può tornare a casa soltanto la domenica sera e il lunedì mattina già partire. Allora sta pochissimo, passa pochissimo tempo assieme alla figlia, e allora ecco che si è dato questo compito. Lui tutte le sere, alle nove in punto, alle 21, chiamerà a casa e reciterà, leggerà alla propria figlia una di queste fiabe. E lo dice proprio Rodari, nella prefazione di questo libro, che proprio per questo motivo le fiabe sono anche così brevi, sono anche così brevi, perché il costo di queste telefonate era importante, diciamo così. Per forza, il ragioniere pagava il telefono di tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe. Assolutamente. E questo è il suo pretesto narrativo. Certo, non le faceva neanche, non le addebitava, quantomeno all'azienda presso la quale lui lavorava. Erano call di lavoro, chiaramente. Attenzione, nella chiusa finale, noto di nuovo l'umiltà intermittente del buon Gianni, la stessa di prima di quando citava le date in apertura della grammatica della fantasia, perché dice, mi hanno detto che quando il signor Bianchi chiamava Varese, le signorine del centralino sospendevano tutte le telefonate per ascoltare le sue storie. La chiusa finale, dice sfido alcune sono proprio belline. Ma se lo dice da solo. Se lo dice da solo il buon Gianni. E' anche vero che poi da lì a qualche anno nel 1970 Gianni Rodari diventerà l'unico vincitore per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, del prestigiosissimo premio Hans Christian Andersen, una sorta di premio Nobel per piccoli che viene assegnato credo dalla metà degli anni 50 ogni due anni allo scrittore o alla scrittrice o all'illustratore. L'illustratrice è più importante che più, diciamo così, è riuscito a entrare in sintonia con un pubblico di piccoli e di piccolissimi, ma anche di adulti, perché noi continuiamo a leggere le sue cose e a usarle anche a lezione, no? Per i nostri laboratori e corsi di narrazione. assolutamente, ricordo sempre con tenerezza l'impiego a lezione del palazzo di gelato durante i corsi di formazione docenti, non soltanto durante i corsi per mini umani, quando seminiamo, lo facciamo con rodari, lo facciamo con buzzati, capita spesso di esorcizzare in questo modo la reverenza, il timore reverenziale per i grandi, seminiamo errori all'interno di testi e lo abbiamo fatto anche con il palazzo di gelato e appunto Gianni ci scuserà e dopo sull'errore dedicheremo, spenderemo qualche parola in più magari, chiedendo, chiedendo come chiediamo di fare ai mini umani delle primarie, chiediamo di correggere gli eventuali errori seminandone di nostri. Proviamo a leggere la versione originale. Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla piazza maggiore e i bambini venivano di lontano a dargli una leccatina. Attenzione perché mi fermo già, al di là della straordinarietà del fatto che una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla piazza maggiore e non era per viralità ma evidentemente proprio per non era per rilanciare il ritorno del cucciolone del winner taco, ok? No, 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 era proprio un palazzo di gelato senza alcun motivo, tra l'altro non c'è tra le pagine è il secondo racconto dei favole al telefono e già abbiamo lasciato completamente il mondo della logica e della ragione ma mi interessa particolarmente mettere in luce che grandi e piccoli docenti e mini umani correggono tipicamente e invariabilmente quel di lontano a meno che non siano di quei mini umani o maxi umani che conoscono a memoria i testi del buon Gianni sono stati plagiati anche loro correggono tutti quel di lontano perché è desueto per tornare a usare la parola di oggi il tetto era di panna montata il fumo dei comignoli di zucchero filato i comignoli di frutta candita tutto il resto era di gelato le porte di gelato i muri di gelato i mobili di gelato e mi fermo di nuovo perché quante ripetizioni ci sono in queste tre righe e mezza un sacco intanto c'è il fumo dei comignoli che subito dopo ci riporta i comignoli di frutta candita la parola comignoli già la diciamo raramente nelle nostre vite trovarla scritta due volte una riga sotto e una riga sopra può risultare ridondante ma qualsiasi sostituzione o sinonimo sarebbe stato molto forzato perché? perché c'è questo tutto il resto era di gelato le porte di gelato i muri di gelato i mobili di gelato e i ragazzini con i quali consentiamo di pasticciare sui testi perché ci segnalano tutti quanti eh ma è una ripetizione ci sono un sacco di ripetizioni e a scuola c'è stato insegnato che è sbagliato ed è vero che in linea generale è sbagliato fare ripetizioni ma è sbagliato rendersi colpevoli del reato di ripetizione se non se ne è consapevoli la consapevolezza credo che sia assieme alla coerenza narrativa a cui facevi riferimento prima il secondo cardine sul quale sbattiamo più la testa quando proviamo a scrivere o quando proviamo a insegnare a scrivere o aiutare qualcuno a allenarsi per scrivere coerenza narrativa cioè rispetto alle regole stesse che ti sei dato tu piccola grande divinità di quel mondo narrativo tu autore e poi però anche sii consapevole delle scelte che fai e quando qui l'ottimo Gianni ci dice tutto il resto era di gelato le porte di gelato i muri di gelato i mobili di gelato vuole semplicemente che nella nostra testa e mi viene da dire anche sul nostro palato si spiaccichi quel freddo e appiccicoso gelato in questione fino a saturare i nostri sensi no? com'è che diceva Conrad? com'è che dovremmo scrivere? beh ogni volta che uno scrittore si mette lì con la penna o con la tastiera del computer insomma a scrivere dovrebbe far provare tutta una serie di sensazioni al suo lettore cioè quando scrive uno scrittore deve far sentire vedere gustare toccare odorare e praticamente tutti 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 i nostri cinque sensi devono essere stimolati e qui è esattamente questo che fa che fa Gianni da un punto di vista visivo visuale e anche da un punto di vista poi sonoro perché c'è tutta questa ripetizione perché se sono favole sono al telefono vengono vengono recitate eccetera e c'è anche il gusto diciamo così dell'elencazione della lista per cui di volta in volta c'è una cosa che si aggiunge ed è sempre quella della stessa qualità ma con un dettaglio o un aspetto diverso l'accumulazione che ci piace un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli lecò le zampe una per una finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti e i piatti erano di gelato al cioccolato il più buono un altro grande grande amico nemico in realtà della punteggiatura insegnata a scuola è questa virgola prima di e ma la virgola prima della e non si mette eh ma Gianni può ma non solo Gianni anche buzzati ma non solo Gianni e buzzati chiunque scriva di mestiere pure la morante due o tre ne ha infilato e fidatevi il punto qual è? che cosa che lezione traiamo da questa faccenda degli errori? da questa parte qui in particolare diciamo così è che la virgola può avere anche un valore diciamo così ritmico e non soltanto quindi legato a quelle che sono la struttura quindi gli impedimenti di quella che è diciamo così la sintassi quella banale delle frasi c'è una forma di ricercatezza silistica o c'è un imitare il fraseggio infantile perché qui c'è anche tanto una forma di cantilena se si vuole cercare di fare una mimesi dell'oralità di un papà che racconta queste storie tutte le sere al telefono prima dicevi che il ragioniere di Marese è il protagonista dell'intero arco e a me fa sorridere fa tenerezza e mi fa chiedere dal momento che poi non si riaffaccia il ragioniere a chiudere il tutto lo immagino come un personaggio proiettato verso un arco narrativo infinito e diciamo così che passa dall'essere mera cornice o mero contesto all'essere un personaggio con una sua dignità narrativa più compiuta una guardia del comune a un certo punto si accorse che una finestra si scioglieva i vetri erano di gelato alla fragola di nuovo virgola e si squagliavano in rivoletti rosa presto gridò la guardia più presto ancora anche questo più presto è tipicamente segnato come errore e invece no nel senso che qui di nuovo stiamo facendo il calco dal parlato e stiamo cercando di raccontare come se stessimo raccontando a voce o come se stessimo soprattutto perché poi siamo in dialogo imitando la viva voce della guardia che incita la folla e giù tutti a leccare più presto lo ripete anche fuori di dialogo per dire sì so che ho scritto più presto e va bene così per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro una poltrona implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo tra la folla una poltrona per una povera vecchia chi me la porta coi braccioli se è possibile siamo nel pieno nonsense Gianni si sta divertendo un sacco e c'è il generoso pompiere che corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio e la povera vecchietta tutta beata cominciò a leccarla proprio dai braccioli questo è un curioso spunto narrativo io mi chiedo perché il bracciolo abbia questa fascinazione perversa nel cuore della vecchina ma noi non vogliamo davvero saperlo fu un gran giorno quello e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia ancora adesso quando i bambini chiedono un altro gelato i genitori sospirano tempo presente improvvisamente e già per te ce ne vorrebbe un palazzo intero come quello di Bologna e io la trovo clamorosa una palestra straordinaria di contaballitudine se farima è c'è perché l'idea poi è anche quella come avete appena ascoltato di poter collocare un evento assolutamente straordinario in un contesto assolutamente ordinario perché non dice in una città di fantasia no lui ti dice proprio qual è la città la piazza e tutta la popolazione che si ritrova a fare i conti con questa sorpresa non sono generici bambini o adulti ma entrano proprio diciamo così le figure della società per cui c'è il pompiere per dire eccetera eccetera che si ritrova lì a dover intervenire per cui è anche questa il racconto è anche questo il racconto della realtà che fa Gianni Rodari e chissà che non ci possa capitare un giorno di molto semplicemente accorderci che qualcosa nella nostra realtà è improvvisamente cambiato è improvvisamente diverso e chi ci deve fare i conti siamo noi persone tutto sommato comune ma allo stesso tempo poi straordinarie quando abbiamo a che fare con delle situazioni appunto straordinarie come quelle che ci possono capitare di di vivere e di conoscere però il discorso magari qui che abbiamo affrontato sul concetto degli errori che ci si ritrova a dover fare i conti all'interno delle strutture sono importanti perché è un concetto sul quale lo stesso Gianni Rodari lavorerà tantissimo tanto che lui nel 1973 pubblica quella che è la sua unica opera saggistica e quindi non prettamente narrativa che è appunto la grammatica della della fantasia un vero e proprio manuale e perché poi un manuale perché l'immaginazione la fantasia per Gianni Rodari doveva essere uno strumento qualcosa che tutte le persone dovevano poter utilizzare per poter innanzitutto immaginare una una versione diversa della realtà e del mondo e sulla base di questo cambiamento poi provare a cambiarlo provare a migliorarlo allora ecco che per Gianni la fantasia doveva essere qualcosa di cui tutti potevano e dovevano usufruirne perché era per lui qualcosa di innato e il concetto poi della della fantasia e dell'immaginazione traeva forse il maggior nutrimento proprio dal concetto dal concetto dell'errore in che senso proprio soprattutto se ci pensiamo anche nei nei lapsus quelli che ci vengono che ci capitano di di commettere in realtà i nostri errori possono essere carichi di un senso ulteriore ne fa alcuni esempi rodari se pensiamo alla parola automobile che è anche un bambino nelle prime classi ma noi tragicamente abbiamo incontrato anche classi più grandi che facevano errori di questo tipo invece di scrivere automobile ecco si può scrivere otto mobile o si può scrivere alto mobile o etto mobile o auto nobile come potete vedere sono tutti errori sono tutte delle versioni che divergono da quella originale perché è quella dell'automobile è d'accordo però che cosa accade in una otto mobile e che cosa accade in un alto nobile vedete che il senso è traslato è spostato da un'altra parte e qui dentro è come se si annidasse un nuovo potenziale narrativo una nuova realtà che spesso proprio i bambini sembrano avere questa capacità di riuscire a vedere a interpretare ad intendere e a conoscere e a farci conoscere e quindi mi viene in mente mi viene in mente l'aneddoto riguardante Cenerentola lo citava proprio nella grammatica della fantasia com'era la storia che doveva essere tutta un'altra fiaba sì assolutamente perché ora io come diciamo così a livello di pronuncia che è pessima però la scarpetta celebre di Cenerentola che era appunto quella di cristallo di vetro che era verre però va pronunciato in francese che è verre proveremo allo stesso tempo in origine doveva essere di pelliccia che era scritto vaire e che si pronuncia essenzialmente allo stesso modo se siete francofoni perdonate lo scempio che abbiamo appena commesso ci scusiamo però ecco che da un errore nasce qualcosa di assolutamente originale inedito e nuovo e che riesce diciamo così in maniera più convincente a superare quello che abbiamo detto all'inizio quello che è la prova del tempo perché sono centinaia d'anni oramai che questa storia questa fiaba viene narrata viene raccontata proprio perché questa scarpetta è di cristallo e non è una semplice babbuccia di pelo o di pelliccia quindi se vogliamo provare un attimo a sbilanciarci un po' e anche così sbragare un attimo signor Regalo cosa crede che sia accaduto quanto alla scarpetta che doveva essere di pelliccia è diventata di vetro cioè è un errore di che tipo non è un refuso vero e proprio nel senso che non hai scritto quella singola letterina per un'altra perché la grafia originaria o quella che Rodari ci racconta come originaria che a sua volta citando un aneddoto di Thompson credo comunque ecco la grafia di pelliccia di quel tipo di pelo è vaire v-a-i-r-e quindi ver ok e diventa invece vetro cioè v-e-r-r-e che è sempre ver d'accordo quindi se sono omofone o giù di lì di nuovo perdonateci se sapete di che cosa stiamo parlando evidentemente è stato un errore di trascrizione sì è molto molto probabile perché sappiamo sappiamo molto bene che tutte queste fiabe tutte queste favole quella di Perrault in questo caso ovviamente traevano un nutrimento da quelli che erano i racconti orali che venivano diciamo così tramandati di generazione in generazione da persona a persona su una base prettamente di racconto orale è un po' come quando si fanno quando si fa il gioco quello del telefono per cui uno comincia a dire una cosa e si finisce per dire per tornare al telefono di qui sopra assolutamente sai cos'è che mi viene in mente quell'altro straordinario errore non di trascrizione ma di traduzione che all'interno del più grande capolavoro fantasy a livello di best seller quanto meno che la tradizione occidentale ricordi prevede un cammello che passa per la cruna di un ago ed è incredibile perché originariamente invece tra le pagine bibliche era previsto che fosse una corda a passare per la cruna di un ago e si stava sostanzialmente alludendo a quanto fosse poco probabile che rispetto a un filo ci fosse la possibilità di introdurre un oggetto così grande attraverso uno spiraglio un pertugio così piccolo i cammelli e gli aghi invece non dando scusate scusate ma a proposito di errori però allo stesso tempo qui proprio per fare nostra la lezione di Rodin preferisco preferisco di gran nuovo l'idea del cammello che prova a passare così questo cammello che passa per la cruna anche perché non sappiamo quanto è grande e piccolo questo cammello ma neanche la cruna del lago esatto l'ago del bonde del bondio sarà di me tra l'altro dovrebbe essere ora non so in quale piazza di Milano che c'è diciamo così una struttura no una opera d'arte che rappresenta una gigantesca cruna di un ago per cui ma senza cammelli senza cammelli ma questa cosa è tragica cosa ne avrebbe detto il buon Gianni attenzione prima che questa video lezione deragli completamente noi ci scusiamo contestualmente con Scuola Holder in Salone del Libro per lo Scempio Test stai trasmesso veniamo torniamo all'ottimo Gianni con il refuso che è quella roba per cui se vi sentite davvero particolarmente a disagio nel momento in cui avete consegnato un lavoro a seconda dell'età di chi sta guardando questo buffo contenuto ma insomma è una scadenza importante avete consegnato qualcosa che sia un saggio breve o la proposta editoriale per la quale ne va del vostro futuro il refuso è quella cosa che tu trovi nel giornale e ci resti molto male se non sei svelto a capir per esempio a busto arsizio cade ieri la prima nave fatto strano eppure grave perché a busto il mare non c'è io vi giuro che c'è un cammello in decollo leggo poi che causa vento un signor perde il cammello una volta era il cappello che volava in qua e là io qui non credo tanto al buon Gianni perché per refuso sbagli una lettera ma non due però però buffi ladri e dico poco sono quelli di Subiaco che nel muro hanno fatto un baco per rubare dal gioielliero li hanno presi meno male li avranno messi tosto in cella dice che li ha messi in sella ora chi li prende più? la signora Moriconi cuciniera poco accorta nel richiudere la torta si è schiacciato l'anular il refuso in conclusione è il burlone del giornale e può far sorgere il sale mentre noi si aspetta il sol io ricordo perfettamente di aver imparato a memoria ma anche trascritto infinite volte illustrato infinite volte con le sapienti doti di una settenne questa particolare filastrocca perché ossessionata dalla musica dalla melodia e dal fatto che mi stesse insegnando il sottotesto ciascuna di queste piccole immagini di queste micro storielle in realtà hanno un vastissimo sommerso io non voglio dire Hemingway levate l'iceberg ce l'ha spiegato prima Rodari a noi proprio non dico a noi nel mondo così però 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 si tratta davvero di dover interpretare il livello testuale il livello narrativo denunciato come dire fruibile dal punto di vista meramente superficiale dalla lettura e poi andare a ricostruire la versione originaria e quindi automaticamente se la cuciniera poco accorta signora Moriconi ha richiuso la torta e si è schiacciato l'anulare io devo chiedermi lui cosa intende dire che la signora ha chiuso la porta e si è schiacciato l'anulare o essendo cuciniera poco accorta quello che è successo è davvero che la torta le abbia danneggiato un dito questo apre a delle invenzioni straordinarie ma soprattutto ci giustifica a ogni mail che non rileggiamo e inoltriamo ai colleghi senza fare troppa attenzione cosa cosa ci portiamo a casa dal buon Gianni perché è una tale celebrazione dell'errore è una tale celebrazione dell'errore perché come sempre Gianni scrive all'interno della prefazione del suo manuale io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l'immaginazione abbia il suo posto nell'educazione a chi ha fiducia nella creatività infantile a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un buon motto del buon suono democratico non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo e direi che potremmo ancora di più sempre con le parole di Gianni Rodari fare nostro un vero e proprio suo motto quando diciamo così dal modo di dire che nel senso che sbagliando si impara noi potremmo dire che invece che sbagliando si inventa e quindi un nuovo senso e una nuova realtà cento di questi Gianni ragazzi alla prossima ciao